Qual è la differenza tra accept e except? Io sono Monica di Impara l'inglese con monica.com e oggi vedremo insieme la differenza sostanziale tra questi due verbi che compongono la coppia dei confusing words di oggi. Accept significa accettare ed è quindi un sinonimo di consent piuttosto che agree. Per vederlo per esempio contestualizzato all'interno di una frase potremmo dire Quindi lui ha accettato l'invito alla festa. Accept invece significa escludere, è quindi un sinonimo di exclude per esempio e per contestualizzarlo all'interno di una frase potremmo dire Quindi i cani guida sono esonerati dal divieto di accesso ai cani. Bene per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione per una nuova coppia di confusing words. Grazie a tutti!